ecco ma sei contento di aver rifaresti questo tra virgolette inseguimento assolutamente visto che poi la notizia non era tanto gli spacciatori che sono fuggiti la notizia era il sindaco che li rincorre assolutamente vi dirò vi dirò anche di più che io poi dopo ho fatto anche altri sopralluoghi successivi perché questo problema poi dopo personalmente proprio è ritornato con anche i carabinieri cui presenziavo anch'io in cui abbiamo in pratica c'era un appostamento dei carabinieri che veniva fatto all'inizio per far spostare gli spacciatori ci recavamo nel bosco abbiamo ricostruito quelli che erano tutti i percorsi e questa è una cosa recentissima nei boschi proprio fresca fresca abbiamo trovato anche degli accampamenti quindi delle delle capanne postazioni vere e proprie delle capanne quindi c'è un problema molto molto serio devo dire che comunque il problema c'è lo stiamo risolvendo alla radice qualcuno aveva aveva sollevato il fatto che non ci fosse collaborazione con le forze dell'ordine ma non conosceva assolutamente come stavano le cose perché la collaborazione con le forze dell'ordine è nata da subito io ne ho molto rispetto quindi prima insomma anche di parlare di uscire a dire alcune cose si poteva anche sentire me si può anche sentirmi e chiedermi esattamente questo è una cosa importante comunque in ogni caso su questo è una problematica su cui stiamo ci stiamo lavorando e arriveremo sicuramente una una soluzione quindi per risolvere il problema alla radice credo che sia importante risolvere 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 risolvere